La storia umana è piena di eroi, uomini e donne che si sono ritagliati un frammento di memoria collettiva grazie alle loro imprese, sia buone che cattive. Purtroppo però la maggior parte di questi protagonisti dei resoconti storici, quelli che tutti noi conosciamo, quelli di cui sempre si parla, sono sempre gli stessi. Nel mio piccolo cerco di portare narrazioni che siano, non dico inedite, ma poco conosciute di sicuro, per raccontare di personaggi della storia antica, medievale e moderna che a malapena hanno una pagina Wikipedia. Quest'oggi è il turno di Wymund, il vescovo pirata. Per via della sua esistenza avventurosa, Wymund si è ritagliato un breve capitolo nell'opera di un autore inglese del XII secolo, William of Newburgh. Siamo quindi in pieno medioevo, all'interno di una cronaca da cui abbiamo tratto molti episodi di leggende affilate, soprattutto grazie ai meravigliosi racconti di non morti e fantasmi contenuti al suo interno. Stavolta però quest'opera ci regala un'avventura per mare, tra arrembaggi, saccheggi, duelli e menomazioni. Quando si pensa ai pirati, la prima ambientazione di riferimento è il Mar dei Caraibi, d'inizio XVIII secolo. Ma la pirateria è sempre esistita, anche nel medioevo. E adesso ci tufferemo nelle acque tinte di rosso sangue per scoprirne qualcosa di più. Wymund nacque in Inghilterra, di umili e oscure origini. Ricevette un'educazione monastica in una abbazia, imparando a leggere e a scrivere, ma il suo temperamento ardente lo spinse presto a scalare i vertici della gerarchia religiosa e militare. Assieme ad alcuni suoi fratelli, fu mandato nell'isola di Man, nel mar d'Irlanda. Si trattava di una piccola missione per stabilire il primo vescovato cristiano su quella terra dominata dall'influenza scandinava, che faceva capo a un regno vero e proprio, il regno delle isole. Tale regno comprendeva l'isola di Man, le isole ebridi, l'arcipelago del Firth of Clyde e nel periodo di massima espansione pure le Orcadi e le Shetland. Frammenti di terre emerse in mezzo all'oceano atlantico e al mare del nord, percorse nell'alto medioevo dai cosiddetti vichinghi e rivendicate nel tempo dalle più svariate autorità, come i sovrani di Norvegia, di Scozia, d'Inghilterra e di Irlanda. Come accadeva spesso, i barbari nativi, definiti così da William of Newburgh, si trovarono a dover partecipare all'organizzazione ecclesiastica cristiana, che imponeva loro di adeguarsi, di far nominare appunto un vescovo nella loro comunità, autorità importantissima che non poteva mancare neppure su un'isola così lontana da Roma. Solo che i modelli di riferimento di quei barbari del nord non tenevano molto in considerazione la conoscenza dottrinale, l'erudizione o chissà quale altra caratteristica comune tra i chierici cristiani. Perciò le attenzioni di tutti si posarono proprio su Wymund, quel giovane monaco salpato dall'Inghilterra, eloquente, carismatico, ma soprattutto alto, forte, atletico. È così che viene descritto nel testo. Ed è per questo che fu scelto così giovane per fare il vescovo da coloro che noi chiamiamo vichinghi. Non ci si aspetterebbe niente di diverso, no? Trovatosi al potere, Wymund si inebriò di successo, cominciando a reclamare sempre di più, ben oltre la sua cattedra episcopale. Il temperamento focoso e l'appoggio dei nativi, di quelle isole che amavano e ricercavano qualità ferre nei loro capi, compresi quelli spirituali, gli consentirono di avanzare pretese, pretese regali. Wymund uscì allo scoperto, rivelando quel che le sue umili e oscure origini avevano nascosto da una vita intera, poiché egli affermò d'essere figlio del Mormer Moray, termine gaelico, che non sono certo di aver pronunciato correttamente, che stava a indicare il re del Moray, una provincia dell'odierna Scozia che all'epoca era indipendente e che tra gli altri aveva avuto come sovrano un tale Macbeth, quello storicamente accurato e non quello tragico drammaturgico di Shakespeare. Una pretesa, quella di Wymund, su cui non sappiamo molto per poter verificare, poiché era un'epoca tumultuosa, povera di fonti, ricca di stravolgimenti, soprattutto lassù, nei mari del nord. L'autore della cronaca è certo che Wymund si fosse inventato tutto, ma alcuni storici, oggigiorno, sono propensi a credere che un simile retaggio fosse possibile. In ogni caso, il nuovo vescovo delle isole cominciò ad accusare i sovrani di Scozia d'averlo privato della sua eredità, affermando che aveva intenzione non solo di far valere i suoi diritti, ma anche di vendicare i suoi torti. Cominciò così a fare proseliti, a raccogliere seguaci, a incitare il popolo e farsi prestare giuramento per dare inizio a una folle corsa verso le isole vicine. L'autore lo paragona a Nimrod, personaggio biblico considerato un eroe, grande cacciatore di bestie e di uomini. E proprio come fece Nimrod agli albori della civiltà umana, Wymund discese nelle province della Scozia devastando tutto ciò che aveva davanti, con rapine e massacri. Compì svariate incursioni, salpando con le navi da guerra per approdare e saccheggiare su un modello dei pirati non reni, ovvero coloro che noi identifichiamo con l'etichetta vichinghi, di cui egli diceva di essere erede. Ogni giorno veniva raggiunto da schiere di seguaci e come un potente comandante infiammò i loro desideri, dimenticando che il suo ufficio episcopale gli richiedeva di essere come Pietro, ovvero un pescatore di uomini e non un assassino. Da vescovo a pirata il passo fu breve, così come viaggiarono velocemente le voci sul suo conto, finché le autorità non decisero di porre un freno alle ambizioni del presunto erede del Macbeth e chissà quali altre figure leggendarie. Fu dichiarata guerra al pirata, tuttavia ogni volta che l'esercito reale muoveva contro di lui, il vescovo Wymund prendeva il largo con le navi, oppure si ritirava nei boschi lontano, per far calmare le acque, attendere qualche tempo e poi spuntare fuori per ricominciare con le razzie, divenendo oggetto di terrore per lo stesso re. Ma come tutti gli eroi, anche se Wymund è da considerarsi più che altro un anti-eroe, abbastanza negativo, a un certo punto della storia compare il degno antagonista, in questo caso incarnato nei paramenti sacri di un altro vescovo. Esatto, per fermare il vescovo pirata fu necessario l'intervento di un altro vescovo, un uomo di singolare semplicità, come lo descrive l'autore, senza riportare il suo nome purtroppo, e che riuscì a reprimere per qualche tempo l'audacia di Wymund. Il vescovo pirata si scontrò con quest'altro vescovo, anche egli come vedremo d'indole guerriera, presumibilmente durante una delle varie razzie e gli chiese il pagamento di un tributo dietro minaccia di sterminio, come era la prassi in occasioni del genere. Se non fosse che questo vescovo minacciato da Wymund si rifiutò di pagare rispondendo sia fatta la volontà di Dio, ma dal mio esempio nessun vescovo diventerà mai tributario di un altro. E detto ciò, sollevò gli abitanti della sua comunità, devotissimi cristiani, e li incitò alla guerra, conducendogli egli stesso in battaglia campale contro Wymund e i suoi vichinghi, vescovo pirata contro vescovo guerriero, uno scontro epocale. I due vescovi avanzavano in testa alle rispettive schiere, con coraggio e furia, prossimi a incontrarsi per primi, come usava fare nel mondo antico e medievale, quando sovrani e condottieri caricavano senza timore di morire, prima delle grandi carneficine moderne, tra armi da fuoco, artiglierie e generali appostati lontano dalla mischia, che osservano il tutto al riparo col cannocchiale. Secondo l'autore, il primo sangue della battaglia fu opera dello stesso vescovo guerriero, l'altro, quello che decise di ergersi contro i pirati, il quale sguainata l'ascia la lanciò con tanto vigore da colpire in pieno proprio Wymund, rovesciandolo al suolo. Gli animi della sua schiera si infiammarono tanto, alla vista dell'eroico gesto, che il popolo s'avventò sui pirati così furiosamente da ricacciarli in mare, e con loro Wymund fu costretto a fuggire, ferito nel corpo e nell'onore. Il vescovo pirata riuscì a riprendersi, tempo dopo, restando ben nascosto e raccontando a tutti di essere stato fermato non tanto da quell'indomito vescovo, ma da Dio che aveva guidato l'ascia, l'unico sfidante che avrebbe mai potuto vincerlo. Una spocchia, quasi una bestemmia, che assieme al suo temperamento ardente non lo abbandonò mai e che gli impedì di riconoscere quando ritirarsi. Recuperate le forze, Wymund ricominciò a devastare e a saccheggiare, esattamente come prima. A quel punto, considerato che non si riusciva a fermarlo con la forza perché pareva risorgere, il re decise di ingraziarselo. Gli concesse un feudo, con annesso lo stesso monastero in cui Wymund era cresciuto e era stato educato, e così il vescovo pirata si placò. Come se il sovrano avesse riconosciuto il suo retaggio regale. Tuttavia, il governo del vescovo pirata non fu dei più lieti, poiché il popolo non lo sopportava, probabilmente per via delle sue politiche crudeli che egli riservò anche ai monaci, i suoi ex fratelli. Ed è per questo che un giorno, mentre viaggiava per le sue terre, cadde in una trappola ordita dagli abitanti e dai nobili del luogo. Fu catturato, legato, imprigionato e condannato a una terribile vendetta. Poiché entrambi gli occhi erano malvagi, gli furono tolti. E provvedendo contro ogni futuro eccesso, lo fecero eunuco per amore del regno di Scozia e non per quello del cielo. Queste le terribili parole di William of Newburgh per descrivere la fine di Wymund, il quale fu accecato ed evirato. Dopodiché fu condotto a Byland, dove aveva sede il monastero in cui un autore sconosciuto, qualche secolo dopo, avrebbe scritto 13 misteriosi racconti di non morti, nascondendoli tra le pagine di altri libri. Una storia bellissima che ho già narrato in un episodio di leggende affilate e che consiglio di recuperare, anche perché sono stati una grande ispirazione per i miei romanzi, sia la stirpe delle ossa che soprattutto la canzone dei morti di prossima uscita. Wymund rimase lì, trascorrendo tranquillamente il resto della sua vita, ma covando un gran rancore dentro di sé. Un giorno disse che se avesse avuto anche solo l'occhio di un passero per tornare a vedere, i suoi nemici avrebbero smesso di rallegrarsi per ciò che gli avevano fatto, insomma, irriducibile fino alla fine. Se la storia di Wymund ti ha appassionato e deve averlo fatto per forza da quanto è meravigliosa, seguimi, condividi l'episodio e lascia un apprezzamento sotto forma di like, mi piace, stella, spadata in faccia o quel che è. Non lo chiedo mai, credo che sia la prima volta, ma si tratta di un errore perché è l'unico modo per far sapere alla piattaforma streaming che tu ami queste storie e che ne vuoi ancora. Quindi è tutto nelle tue mani. Sei tu a decidere se quella del Vescovo Pirata o tutte le altre storie che racconto devono restare nell'oblio oppure devono diffondersi tra tutti i masnadieri e le sanguinarie meritevoli d'Italia. Scegli saggiamente e alla prossima. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara.